Si amplia il personale dei servizi educativi l'operazione Scuole Sicure, promossa dall'amministrazione comunale di Pesaro. Mercoledì 3 febbraio dalle 16 alle 17.30, la palestra dell'Istituto Bramante Genga ospiterà per lo screening anti-Covid-19 educatrici, insegnanti, ausiliari e cuochi che lavorano nei nidi e nelle scuole di infanzia comunali. Per studenti, professori e personale scolastico delle scuole superiori, lo screening proseguirà invece domani e dopo domani, martedì 2 febbraio i test sono in programma al campus, al Santa Marta e al Mengaroni, mentre mercoledì 3 al campus, al Cecchi e al Mengaroni. I numeri registrati nelle prime due giornate di attività parlano di quasi 2.700 test effettuati, con l'individuazione di sei casi positivi tra alunni, docenti e personale scolastico. Tra questi un professore del Bramante Genga, per sei classi dell'Istituto, è quindi scattata la quarantena di 14 giorni. Abbiamo avuto questa situazione che direi che da un lato, certamente, sei classi tutti in un colpo in quarantena, fa un certo effetto, però dall'altro questo dimostra che questa prevenzione ha un significato molto ben preciso. In fondo, ripeto, un solo docente, perché è un solo docente, e che però appunto ci mette nelle condizioni di tutelare, diciamo, e di seguire il percorso di questi ragazzi che in qualche modo hanno avuto contatto in questi giorni con i docenti in questione. Ecco, io credo che sia anche qui un fatto positivo, vuol dire che insomma funziona anche da questo punto di vista il tracciamento. Per quanto riguarda il mio istituto, diciamo, c'è stata un'affluenza di oltre il 50%, con tanti anche docenti e persone alleate, che poi si sono invece rivolti il pomeriggio del giorno prima qua allo scientifico, al Marconi. E adesso, tra l'altro, ecco, a seguito anche di quello che insomma si sta verificando, per la giornata di mercoledì, dove ci sarà la seconda tornata, abbiamo avuto una richiesta proprio ulteriore di ragazzi che non si erano sottoposti in prima giornata a questo screening e che invece appunto chiedono di poterlo effettuare. Il Dipartimento ci ha dato questa indicazione. Allora, se la positività riguarda un asintomatico, allora la classe viene messa in via prudenziale, diciamo, in DAD, in attesa poi di un'eventuale conferma da parte del tampone molecolare. Se invece la persona è già asintomatica, allora si parte già con una quarantena preventiva, in attesa sempre appunto poi di conferma e di eventuale tampone per i ragazzi che appunto poi si dovranno sottopore al termine dei 10 giorni, oppure se non si sottopongono al tampone molecolare la quarantena dura 14 giorni. Questo è quanto ci ha indicato il Dipartimento di Prevenzione.